Cari amici di Wineblog, bentornati. Continua il nostro tour all'interno di quelle che sono le sale del Teatro Cursal alla scoperta delle aziende che espongono a questa diciottesima edizione del Merano Wine Festival. Ora sono in compagnia di Luca Dattoma, rappresentanza dell'azienda VTV Nicola Due Mani e del nostro consulente editoriale Paolo Ianna. La prima domanda che ovviamente ti porgo è quali sono i vini che Due Mani quest'anno portano? I vini che Due Mani porta a Merano sono tre, sono la nostra produzione, altro vino che definiscono la nostra partenza che è il vino più giovane ma di Cabernet Franc e Merlot 50 e 50, poi il Due Mani da cui il nome dell'azienda che è Cabernet Franc e sui sassi il Sirac. Nello specifico adesso stiamo per degustare un bicchiere di Due Mani e quindi a questo punto passo la parola a Paolo che è sicuramente molto più competente di me. Ho già usato il vino, intanto è di un bellissimo colore, ho già sentito un mix al naso di lampone, di uno sciroppo di lampone, di quasi un distillato di lampone, la butto soprattutto su questo descrittore, su questo frutto. C'è della ciliegia, è molto interessante, il naso è pieno, ha anche una piccola traccia di evoluzione molto nobile, tra virgolette, che si sente nei grandi vini ben affinati. Dovrei descriverla come una specie di riferimento al tartufo. In bocca ripete quello che si sente al naso, è un vino molto importante, secondo me ancora giovane, ha bisogno ancora probabilmente di un po' di tempo per essere completamente aggraziato, si colloca tra i grandi vini italiani. Mi sembrava che mi avessi spiegato una volta che i terreni che hai acquistato per questa azienda fossero molto particolari. Io ho sempre avuto un po' il pallino di andare a scoprire zone nuove. Ho iniziato, molti lo sanno, nella Val di Cornia, poi sono stato uno dei primi consulenti a frequentare i Bolgheri. Per me era importante scoprire qualcosa di nuovo. Questi sono terreni estremamente argillosi, io li definisco proprio estremi. Perché? Perché hanno oltre il 40% di argilla. Sono argille con una matrice alcalina molto elevata, i nostri pH sono intorno a 9 del suolo. Quindi per chi non è un tecnico, voglio dire che sono dei terreni dove la vite fatica. I sostenitori delle grandi zone classiche, quando dico che lì c'è un bravo produttore che fa dell'eccellente vino, ma in tutte le regioni italiane. E qualcuno con la, forse un po' troppo snob, mi risponde, ma lì non c'è mai stata la vite. Come rispondi a questi signori? Ma questo mi viene da ridere, no? Perché molto probabilmente questi signori vengono da lontano e allora, oppure devono nascondere qualcosa, oppure non si rendono conto semplicemente che non conoscono. Hai visto? Sa parare, sa rilanciare. Sa rilanciare la fa. Sì. Dopo la degustazione continuiamo con l'approfondimento relativo invece ai vini biodinamici. L'approfondimento che abbiamo iniziato nelle interviste passate, sempre fatte con Luca Dattoma, e che oggi invece vogliamo riprendere, anche in virtù del fatto che ieri, se non sbaglio, avete partecipato all'evento bio. Ovviamente, ovviamente. L'anno scorso abbiamo parlato delle tecniche di coltivazione, facenti parte appunto di quella che è la tecnica di coltivazione biodinamica. Quest'anno invece vogliamo meglio capire in che modo incide la fase enologica, ovvero esiste anche un modo biodinamico di fare il vino. Quello che devo dire è che, sì, c'è un disciplinare su questo, ma non è una tecnica, no? Perché questo è improprio. Perché c'è un metodo. La tecnica è il convenzionale. Quello che opero, uso in situazioni che riguardano la mia attività, che è la libera professione. Mentre, direi che, ripeto, nel mondo biodinamico c'è un metodo. La cantina, sostanzialmente, a di là che dovrebbe essere, questo per essere biodinamici, proprio estremisti, completamente libera da qualsiasi influenza di elettromagnetica, e comunque di nodi di Hartmann, quindi di fiumi sotterranei che creano delle... Quello che è importante è non usare lieviti selezionati, non usare batteri, usare della grande uva. È l'ingrediente principale. Si può vinificare senza anidride solforosa. Fortunatamente ci sono dei limiti. serve tanto buonsenso, perché poi alla fine questo è il metodo uguale buonsenso. Buonsenso. Prima accennavi al fatto che anche dalla vendemmia già c'è un buonsenso. È fondamentale, perché quando si può, sarebbe necessario vendemmiare quando nelle fasi lunari, e quindi consultando il nostro calendario di Maria Thun, dicono che le piante sono a frutto oppure a foglia. Cosa vuol dire? Che la linfa ha una velocità più centrifuga, quindi va verso il frutto, quindi c'è più energia che trasla dalle radici al frutto oppure alle foglie. Quelli sono i momenti migliori. Nel momento migliore perché c'è proprio l'essenza del suolo che migra, quando è a frutto proprio, migra nell'uva. Infine, se mi posso permettere, chiudiamo con una domanda da non addetti ai lavori, non addetti che però vogliono comunque avere la certezza di poter bere dei vini biodinamici di qualità. Chi non li sa riconoscere? Esistono comunque dei marchi che ci possono distinguere un vino biodinamico di qualità, un grande vino biodinamico rispetto invece a dei vini semplicemente dichiarati essere biodinamici? Sinceramente oggi beh, è difficile dover dire da una degustazione questo è biodinamico, questo non lo è, però devo dire che quando si assaggiano questi vini c'è qualcosa di diverso. Questo è giusto dirlo. e forse qualcuno confonde il vecchio vino del contadino col vino biologico, biodinamico. È stata creata una confusione e ce n'è tantissima, ce n'è tantissima sia a livello giornalistico, dei media in totale e ci immaginiamo il danno che hanno fatto queste persone sul consumatore. Allora c'è una grossissima ambiguità e come vedi c'è una polemica perché i messaggi non arrivano chiari, mentre poter scegliere un vino da agricoltura biologica in un supermercato dovrebbe essere semplice e automatico. È un fatto di buon senso, guardate, non è che ci voglia chissà cosa, è un fatto solo di buon senso, di dire le cose come sono, in maniera molto corretta, corretta, eccetera, non serve granché. Secondo me è una questione di saggezza, di rispetto per la terra e penso che sia un messaggio che viene recepito molto facilmente adesso, no? Sì, molto, però basta non creare ancora un'altra confusione perché sarebbe la fine. Quindi bravi anche a noi di Weimlog che con questa intervista cerchiamo di portare un po' di chiarezza. Grazie. Grazie.